Fanesi, sono partiti i lavori di asfaltatura qui nel quartiere di San Lazzaro? Sì, qui nel quartiere di San Lazzaro sono partiti questi lavori molto importanti e anche molto attesi, circa 38 anni che non si asfaltava questa zona del quartiere. Prima abbiamo bonificato con Aset ovviamente la rete idrica della zona per cui abbiamo sostituito tutti i tubi, infatti Aset ha provveduto a ripristinare provvisoriamente gli scavi fatti dovuti alle sostituzioni e adesso il comune provvede all'asfaltatura delle strade. Prima rimuoviamo, diciamo, fresiamo la parte superficiale e poi metteremo il bitume e quindi da domani questo lavoro sarà pressoché terminato. Per quanto riguarda invece la chiusura e la messa a posto degli scavi che verranno fatto, il comune dà un po' di tempo a questa parte per evitare che ci siano nel tempo degli avvallamenti dovuti agli scavi che sono stati fatti, mette una guaina che sostiene dal punto di vista tecnico sostiene lo scavo in maniera tale che non si creino nel futuro degli avvallamenti che sono molto fastidiosi lungo le nostre strade e che appunto sono dovute ai sottoservizi. Ovviamente l'opera non finisce qui, proseguiremo, abbiamo altre due o tre strade importanti da dover asfaltare, stiamo predisponendo il nuovo piano dell'asfaltatura e ovviamente abbiamo in testa una serie di strade da asfaltare, abbiamo in testa un percorso da fare che stiamo cercando di svolgere nel miglior tempo possibile anche in relazione alle risorse che abbiamo. Quindi direi che comunque oggi andiamo a sistemare una zona, quella di San Lazaro, molto popolosa e che appunto da 38 anni asfaltava questa asfaltatura.